Vale quasi 3 miliardi di euro la manovra di bilancio della regione dell'Umbria illustrata ieri dalla presidente Catiuscia Marini in prima commissione consigliare che sarà votata mercoledì prossimo ed approderà in consiglio regionale il 4 e 5 di aprile. Malgrado i tagli della legge di stabilità 2016 e i vincoli derivati dal rispetto del pareggio di bilancio la regione mantiene gli equilibri e l'affidabilità dei conti all'interno di una invarianza della pressione fiscale. Così la Marini sul bilancio regionale 2016 che ammonta esattamente a 2 miliardi 940 milioni di euro di cui due terzi per la sanità. Tra gli obiettivi prioritari della governatrice quelli di garantire in toto il cofinanziamento dei programmi comunitari di non ridurre le politiche di welfare e coesione e di fare scelte importanti nel settore dei trasporti e in quello del turismo e delle politiche culturali. Ma guardando ai numeri dei 2 miliardi 940 milioni di euro come già detto 1 miliardo e 809 milioni circa i due terzi sono destinati al fondo sanitario. Oltre 470 milioni ai servizi istituzionali generale di gestione a tale proposito senza considerare il personale arrivato dalle province la spesa per il personale della regione di 58,2 milioni di euro nel 2016 in costante diminuzione come ha spiegato Marini negli ultimi anni. 162 milioni vanno ai trasporti e al diritto alla mobilità di cui 104 del fondo trasporti circa 68 allo sviluppo economico e alla competitività. Scendere 62,2 milioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio 50 i milioni di euro per le politiche per il lavoro e la formazione professionale 49,5 milioni per l'agricoltura, le politiche agroalimentari e la pesca circa 30 i milioni per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa e 28 dedicati all'istruzione e al diritto allo studio 20 i milioni di euro investiti nella tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 18 milioni alle politiche sociali e alla famiglia confermando 4 milioni di euro per il fondo della non autosufficienza che insieme alle risorse statali sale a circa 10 milioni di euro sono infine 13 milioni e mezzo per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali come le comunità montane e l'agenzia della forestazione.